Ecco Andrea! How are you? This is Disco English. Disco English is the name of our program, Andrea. Dunque, tu sei americana? American, you're American? Yes, I am. But you are on the charts in England, right? Yes, so what's your name, what's your number? The new single that's going to be on the new album is number three in England this week. I think it's top 40 by now because I just got here in America. Qui noi parliamo italiano per la regola. Comunque, io traduco che il suo album, il suo 45 CD è il numero 3 in Inghilterra e si chiama What's Your Name, What's Your Number che vuol dire qual è il tuo nome e qual è il tuo numero, vero? Oh, caro Andrea, io mi domando tu verrai in un tour in Italy, is right? You'll come in Italy in a tour? I'd like to again. Well, hopefully in 1978 with the new album. No, 26 mia. Ok, lei verrà a fare una tour in Italia noi saremo tutti qua a vederla. Andrea, prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti